Ciao a tutti e tutte. Noi siamo Elena e Lorenzo, lavoriamo appunto insieme in coppia, ma siamo anche sposati e lavoriamo da casa. Quindi diciamo che queste tre cose insieme hanno sempre creato molta curiosità nei confronti di altre persone che sapevano di questa cosa. E quindi abbiamo deciso di fare questo talk proprio per parlarvi della nostra esperienza e raccontarvi come riusciamo a far convivere una coppia e una coppia anche di collaboratori ovviamente. Sì, volevamo chiamarla finché partita IVA non ci separe, però non era proprio di buon auspicio, quindi abbiamo un po' optato per un titolo più così. Prima appunto di entrare nel succo del talk, volevo dire ci sono alcuni, quelle che secondo noi sono alcuni prerequisiti, che prerequisiti è un po' una parolona importante, però sono alcune caratteristiche, un po' di carattere così insomma un po' nostre che aiutano di molto, ecco, questa cosa di conciliare lavoro e vita insieme. Per esempio quella di essere persone un po' tranquille, ecco, magari che non si scaldano troppo, comunque per cui insomma le eventuali arrabbiature, così le discussioni passano un po' più velocemente e puoi andare molto d'accordo, comunque avere comunque una vita in cui siamo un po' siamo d'accordo, insomma viviamo bene insieme e cosa vuol dire che è sbagliato, che c'è qualcosa che non va se non è così, però proprio nell'ambito strettamente in cui si parla di lavoro e vita insieme può aiutare un po' a farsi insomma che eventuali problemi insomma rimangano ecco un po' in un ambito ristretto e di questo poi comunque parlerò un po' meglio dopo. Ora entriamo un po' nel suco del discorso. Ok. Allora noi lavoriamo insieme da cinque anni, abbiamo aperto partita IVA appunto cinque anni fa ed allora appunto creiamo siti insieme, lavoriamo insieme appunto per a capo web. In questi cinque anni abbiamo commesso un sacco di errori ovviamente nel corso del tempo, però da questi errori abbiamo anche appreso delle cose, delle lezioni belle, interessanti, utili che vogliamo condividere con voi oggi. La prima di queste lezioni è quella che abbiamo l'errore che abbiamo commesso all'inizio che era quello di dare per scontato un po' il rapporto e la comunicazione tra di noi. All'inizio ovviamente come tutti i freelance avevamo pochi clienti e quindi lavorando insieme ok ci dicevamo le cose a voce, magari qualche mail eventualmente ma finiva lì. Quindi coordinare i progetti finché i clienti erano pochi ok si poteva farcela ma con l'aumentare dei clienti ovviamente questo è diventato insostenibile e quindi anche se siamo una coppia anche se viviamo insieme abbiamo dovuto comunque organizzarci come se fossimo un team di lavoro. Quindi usando magari il Trello, usando Excel, creando per esempio su Trello delle schede praticamente delle baccheche per ogni progetto, per ogni cliente e creando all'interno di queste baccheche ovviamente una to-do list, una checklist di tutte le cose da fare e qui assegnate a chi deve fare quella cosa con relative scadenze. Può sembrare una sovrastruttura eccessiva per due persone ma in realtà funziona molto bene perché ci permette di sapere esattamente cosa sta facendo l'altro e quindi evitare problemi di dimenticanze e dare per scontato le cose. Seconda lezione che abbiamo preso è non dare per scontato che l'altro capisca cosa vogliamo da lui, nel senso che noi ok andiamo d'accordo e tutto quanto però abbiamo due modi di pensare, di lavorare molto diversi. Esempio eclatante, se io facessi un Excel e lo facesse Lorenzo sarebbero totalmente diversi. Io magari userei i colori, esatto, userei i colori quant'altro, poi sono molto più schematici però proprio abbiamo uno stile proprio di lavorare molto diverso e quindi questo fa sì che se io scrivo nella checklist fai questa cosa qua, non è detto che lui la faccia esattamente come avevo pensato io perché lui la ragione in un modo diverso. Quindi da questo abbiamo imparato a creare queste checklist molto specifiche in modo tale che ognuno di noi sappia esattamente cosa deve fare senza dare per scontato dover andare a chiedere all'altro ma cosa intendevi quando hai scritto questa cosa qua. E questa è la seconda lezione. La terza, quella che si collega un po' a quello che abbiamo visto finora, cioè trattarci come colleghi. Cioè ok siamo sposati, ok viviamo insieme però siamo anche colleghi e quindi non bisogna andare per scontato l'altro, non bisogna trattarlo in maniera diversa da come avresti un rapporto con un collega, cioè comunque aspettarti dall'altro quel tipo di rapporto che ti permette di lavorare bene insieme senza dare per scontato nulla. E altra cosa importante, avere un brand che rappresenti entrambi. Noi all'inizio abbiamo, quando abbiamo creato a CapoFueb abbiamo cercato di creare un brand che rappresentassi sia me che Lorenzo. Questa non è una cosa così scontata perché può capitare che magari entrino membri in un team in un secondo momento, però il fatto che il brand rappresenti entrambi ci aiuta a sentirci entrambi parte di questo progetto e non una vuota di scorta, una persona che è lì provvisoriamente ad aiutare l'altra, ma proprio come due, un 50 in 50 diciamo di quel brand. Infine ultima cosa su cui stiamo ancora lavorando, imparare a staccare dal lavoro. Perché ovviamente lavorando da casa, come sapete benissimo, è difficilissimo riuscire a staccare. E quindi abbiamo iniziato, adesso siamo un pochino più bravi però ci stiamo ancora lavorando, per esempio a non lavorare nei weekend o comunque nelle giornate che decidiamo di staccare appunto e soprattutto di non parlare di lavoro dopo le 8 di sera, per esempio. Cioè noi abbiamo deciso che da quel momento e poi dalla cena sostanzialmente non parliamo più di lavoro, a meno che non ci sia una questione particolare da seguire, però in quel caso chiediamo sempre all'altro se è d'accordo di parlare di quella determinata questione in quel momento lì o se magari preferisce farlo il giorno dopo perché è stanco, perché ha altre cose per la testa, eccetera. Ecco queste sono un po' le lezioni più importanti che abbiamo appreso nella nostra vita insieme. Adesso sì, il prossimo tema, un attimo mi sposto, se no, ok. Il prossimo tema è un po' quello che riguarda, quello che adesso ho chiamato un po' intitolato i conflitti, che però insomma anche qui è una parola un po' forte, perché comunque sono conflitti comunque un po' forte, però qua non nascono magari discussioni o qua non nascono dei problemi, perché provate a immaginare sul lavoro capita sempre che ci siano dei problemi, insomma qualcosa che non va previsto. Esatto, bravo. No, sul lavoro appunto come sapete tutti capitano appunto problemi anche con chi ha dei colleghi, insomma dei dipendenti così possono nascere comunque dei problemi, ovviamente possono nascere anche se il lavoro si lavora insieme e se lavora appunto anche in coppia. Per fortuna nel nostro caso capita raramente, però ovviamente col tempo qualche volta è successo. E abbiamo l'introduzione, il primo capitolo che ha trattato Ila sull'organizzazione è molto importante anche in questo caso perché analizzando un po' quei pochi conflitti, insomma che ci sono stati, conflitti, comunque discussioni o cose che non hanno funzionato, la maggior parte sono nate dalla disorganizzazione o comunque dal mancato rispetto di quelle regole di cui si parlava, per cui appunto segnare le cose su Trello, segnarsi le cose via email, così. E quindi appunto quando si tratta di affrontare appunto un conflitto, un problema sul lavoro, è molto importante organizzarsi, trovare sempre il motivo per cui è successo, che cosa non è andato bene, per cui appunto ancora una volta c'è questo invito a rispettare appunto l'organizzazione che si è dati, le regole che si sono dati. E infatti uno dei, appunto se fosse il consiglio più importante quando c'è qualche problema è quello di aiutarsi e aiutarsi a migliorare, quindi fare un'analisi, fare un po' una retrospettiva, ovviamente a voce ferme quando è tutto un po' sbollito, per poter capire che cosa è andato e fare qualcosa di attivo per migliorare. Quindi non è andato male qualcosa su Trello, non ho segnato una cosa, ok troviamo un modo per ottimizzare questa cosa per far sì che venga appunto rispettato e questo aiuta molto appunto a disinnescare proprio in partenza perché una volta che le cose si fanno e sono chiare, rimangono proprio fuori quelle cose impossibili da prevedere che ovviamente non sfocia neanche in niente ecco. Infatti in questo proposito noi abbiamo iniziato a fare già da qualche anno dei check mensili in cui appunto cerchiamo di sfruttare anche tutte le cose che possiamo avere appreso in quel mese o anche cose che non sono andate in quel mese e dire ok questa cosa non ha funzionato, cosa possiamo fare per migliorare d'ora in poi? E quindi anche questi controlli periodici ci aiutano a migliorare poco a poco e quindi a migliorare e ottimizzare è sempre meglio il modo di organizzarsi, il modo di gestire il lavoro ma anche i clienti, il business, tutto quanto e quindi questo torna molto utile. Ecco un'ultima cosa appunto sulle discussioni su eventuali problemi è quelli di cercare il più possibile di mantenere l'ambito lavorativo, questo è molto importante perché se provate a pensare a ogni magari problema, piccolo problema che c'è, da lavorativo inizia magari a sfociare sul personale quindi ho dimenticato di segnare una cosa sul trello, come quella volta a due anni fa che ha dimenticato di prendere qualcosa facendo la spesa, ecco se ogni discussione diventa così da lavorativo passa al personale non dura molto il rapporto o lavorativo o personale o entrambi ecco quindi anche questa è una cosa molto importante. L'ultimo tema importante appunto di cui volevamo un po' parlarvi, visto che comunque siamo imprenditori, si parla di guadagnare insomma di lavorare, è il discorso dei soldi che non è banale innanzitutto sia per aspetti tecnici fiscali, ma anche perché di rappresentatività insomma c'è chi guadagna di più di meno, insomma tante domande che si possono fare, provo a raccontare un po' come ci organizziamo noi che magari può essere comunque utile. Nel nostro caso siamo due partite IVA separate come professionisti e quindi ognuno appunto ha il proprio conto, ognuno fattura appunto alcuni progetti magari o progetti che seguiamo solo uno dei due, allora magari fatturiamo, se no c'è comunque questo cumulo di fatture che va un po' uno e un po' l'altro e c'è quindi questo problema importante da gestire. Noi cerchiamo di gestire un po' come fosse una società, appunto non siamo ancora di fatto dopo magari in un futuro chissà, quindi alla fine cerchiamo di unire appunto tutti comunque i proventi, quindi una volta tolto una parte accumulata per le tasse, facciamo confluire tutto su un conto unico contestato, questo conto è un po' la nostra base per le spese familiari, le spese comuni, le spese della casa, è un po' appunto sì il nostro cumulo, ecco il nostro conto insomma che gestiamo, dove appunto facciamo confluire tutti indistintamente i nostri netti, ecco. Da questo conto ne lasciamo una parte per le spese appunto ricorrenti, casa, le spese così e dopo, questa è un po' la parte un po' più interessante, ci facciamo un bonifico sui nostri conti che ha dello stesso importo per me e per Elena. Questo è di fatto un po' il nostro guadagno e appunto col fatto che è sempre uguale, è sempre uguale tra i due, comunque si crea appunto questo rapporto come se fosse una società, ci dividiamo gli utili praticamente, quello che guadagniamo che esce, tolte le spese è il nostro stipendio. Questo è importante perché non è più un problema il fatto che magari uno dei due lavori di più, non lavori di meno perché magari quel mese ha avuto meno clienti o non è stato bene e così, alla fin fine ci dividiamo tutto e appunto è molto importante proprio per sentirsi anche realizzati, non ci sono mai problemi appunto di si lavora di più di meno che guadagna di più perché appunto c'è questo progetto comune anche qui, avere un brand unico, avere un progetto unico, lavorare così insieme insomma è molto importante e aiuta davvero anche appunto in cose un po' più formali come può essere la gestione dei soldi. Con questo se vuole aggiungere qualcosa? No, no, posso. Ok, con questo appunto abbiamo un po', sono i temi un po' principali che abbiamo trattati, passiamo alle conclusioni. Ok, allora speriamo insomma di avervi dato qualche spunto anche per l'occasione in cui dovete lavorare non solo col vostro compagno o magari con qualche amico, parente o quant'altro, ma in generale come vedete quello che è tornato utile a noi può tornare utile in generale a qualsiasi team perché come vedete Trello, gestione, organizzazione eccetera sono cose in cui in realtà ogni team deve ovviamente ottimizzare al meglio se vuole lavorare bene, quindi insomma speriamo di aver dato qualche spunto interessante. Ovviamente una premessa prima di finire è che noi ok, lavoriamo insieme, ci troviamo bene, la cosa funziona, però questo non vuol dire che qualunque coppia debba lavorare insieme, non è detto che qualunque coppia debba volerlo o debba riuscirci, può anche essere che ci siano delle coppie che ci provano e non ci riescono, questo non significa niente, non vuol dire che non funzionate come coppie, semplicemente vuol dire che per voi, dato che siete persone, siamo tutti persone molto diverse, ovviamente per ognuno funziona un equilibrio diciamo diverso, ecco. Era una cosa che volevamo, ci tenevamo così e quindi l'abbiamo fatta, però liberi tutti, ecco ognuno è libero di fare come vuole, molto importante, sembra banale ma non lo è. Ok, con questo è tutto, dopo se volete parlarci anche più avanti per chiederci qualcosa, ovviamente noi siamo disponibili e siamo qui anche domani, quindi siamo qui a rispondervi, ok? Grazie.